Sta andando la serata abbastanza bene, però rispetto agli anni scorsi decisamente disorganizzata da parte del comune soprattutto, noi abbiamo scoperto una settimana fa, dieci giorni fa, che ce l'ho fuori tutto io stesso ho chiamato da due mesi a questa parte, ma nessuno sapeva dirmi quando era la gente non ha neanche avuto la possibilità forse di organizzarsi al meglio, come si faceva agli altri anni tutto sommato si sta lavorando, però secondo me si poteva fare molto di più se fosse stata organizzata meglio, come gli altri anni comunque meglio